Salve Lloyd, c'è poca gente stasera, lei ha ragione Mr. Torrance, che cosa prende? Una domanda molto azzeccata caro Lloyd, perché si dà il caso amico mio che ho due pezzi da 20 e due da 10 qui nel mio portafoglio e temevo che ci rimanessero fino all'aprile prossimo? Allora facciamo le cose, tu mi passi una bottiglia di bourbon con del ghiaccio e un bicchierino. Che dici ci riesci Lloyd? Non è che hai troppo da fare? Sono sempre a sua disposizione, sei l'uomo che cercavo, allora tira fuori tutto che mi faccia una bevuta Lloyd così mi tira su. È il senso del dovere che ci frega amico mio, il senso del dovere ci frega. Oh Lloyd, ho paura che per il momento sto al verde. Come andiamo a credito in questo locale? Oh per lei non c'è nessuno più. Questa è classe, tu mi piaci Lloyd, l'ho sempre detto io, sei il miglior barman del mondo. Il migliore fra tutti gli annati barman che ho visto fra Timbuktu e Portland Main o Portland Oregon se preferisci. Lei è davvero gentile. Volevo dire io le mani addosso non gliel'ho mai messe, non l'ho toccato. Io quella sua dolce testolina santa, non la toccherei nemmeno con un dito. Io lo amo con il mio figlietto di puttana. Io farei qualsiasi cosa per lui, qualsiasi fottuta cosa per lui. è quella stronza. Lo so che fino a quando vivrò farà tutto il possibile perché io non dimentichi. Io gli ho fatto male una volta, ok? Ma è stato un incidente. Senza nessuna intenzione. Non l'ho fatto mica a posto. Ma può succedere a tutti, è stato tra i maledetti anni fa. Quello stronzino avevo buttato a terra tutti i miei fogli di carta, allora io gli ho preso un braccio, l'ho tirato via. È stata una mancata coordinazione muscolare, nient'altro. capisci? Soltanto qualche chilogrammo di energia in più per secondo, per secondo. non l'ho fatta via. Ecco appunto glitter bil efectivo di questo, è stato un luogo di verità. Behvi ragazzino una lot BrushEE.ловo è proprio della settimana. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 e... io... a tutti. 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 su, vieni fuori. a tutti? e... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.